Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 28 ottobre. Ariete, la frenante opposizione di Mercurio, appesantita dalle quadrature della Luna e di Marte, rischia di gettare un po' di scompiglio nei vostri piani. Prestate la massima attenzione ai dettagli di poco conto, ma rischiate di perdere di vista il quadro d'insieme. Doro, la Luna in Capricorno stimola i vostri interessi culturali, spingendovi a coltivarli con maggiore assiduità. Potreste trarne vantaggi impensati, magari riuscendo a trasformarli in un'attività tanto piacevole per voi quanto utile e remunerativa. Gemelli, la Luna, trasferendosi in Capricorno, si pone in indifferente neutralità e vi fa dimenticare l'allegria e la spensiratezza dei giorni passati. Insolitamente ribelli, avete una gran voglia di rompere gli schemi e di dare un calcio alle rete. Cancro, un progetto sul quale avevate riposto molte aspettative, potrebbe non concretizzarsi. La delusione è comprensibile, ma non è il caso di insistere. È inutile stare lì a recriminare, scaricando la vostra delusione sul primo che vi capita a portare. Leone, inutile girarci intorno. Prosegue il momento poco felice, che vede come protagonista il vostro segno. Le tensioni non accennano a diminuire. Il segreto per superare indenni questo momento poco propizio sta solo nel mantenere il sangue freddo. Vergine, finalmente un raggio di luce in un panorama astrale fino a ieri un po' grigio. Ve lo regala la luna che, dal capricorno, si dispone in promettente sestile. L'umore è migliore e cresce anche il desiderio di vedere gente nuova, di stare in piacevole compagnia. Bilancia, ciò che riuscirete a concludere oggi dipende dalla vostra voglia di fare. Le occasioni non vi mancano, trovate il modo per avvantaggiarveli. Continuare a tenervi in contatto con una persona influente potrebbe essere la vostra carta vincente. Scorpione, il sestile della luna in capricorno vi regala quella concretezza di cui a volte difettate. I vostri progetti finalmente decollano e prendono forma. C'è tanto da fare, ma la soddisfazione di centrare un obiettivo ambizioso vi fa dimenticare la fatica. Sagittario, dovete accettare quello che le stelle hanno in servo per voi. Anche se si tratta di una giornata caratterizzata da tanta noiosa routine, trovate un modo per rendere più vivace l'atmosfera. Data la vostra fervida fantasia, non vi sarà difficile. Capricorno, una spiccata benevolenza planetaria vi sostiene a tutto tondo e vi serve su un vassoio d'argento una parentesi trionfale da assaporare fino in fondo. Se da un po' avete un sogno chiuso nel cassetto, è ora di tirarvi fuori, i tempi sono ormai maturi. Aquario, possibili ostacoli intralciano i programmi per la giornata. L'ambito più problematico oggi è la vita di coppia. Con il partner sono screzzi continui. Superate l'impasse rilassandovi un po' e provando ad essere meno intransigenti. Non è così difficile. Pesci impegnati come siete nel lamentarvi e recriminare contro la sorteria, forse neanche vi accorgete che la situazione è nettamente migliorata. Gli amici scalpitano e anche voi avete una gran voglia di passare qualche ora piacevolmente insieme.